Ciao bambini, mi chiamo Ugo e questo è il mio canale, Ugo Kids TV. Oggi impariamo i colori, grazie a questo divertentissimo puzzle con i veicoli. Siete pronti? Ecco che arriva! Rosso! Giallo! Verde! Aranzone! Blu! Rosa! Rosa! Rosso! Giallo! 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 Rosso! 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 Giallo! Verde! Rosso! 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 Giallo! Peres! giallo! Rosso! blu rosa è stato divertente vero bambini vi aspetto al prossimo video non mancate